Oddio! Esce fuori il nome! E raga, l'ho sgamato! Oddio mio! Rubì, non è il momento, ti richiamo io! Non è il momento, Rubì, non è il momento, ti richiamo io! Ho fatto! Fatto! Non è il momento! Moschi, vai, hai messo in cinta la dipendente! E mi è andata in maternità! Guarda la faccia! Io... No, no, boss! No, 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 no! Ho messo in cinta la dipendente! Ma chi ho messo in cinta io? No, aspetta! Io ho messo in cinta... Ma chi ho messo in cinta? Moschi sta pensando! Ma chi ho messo in cinta? Mi stai chiamando di nuovo, raga! Che ho messo in cinta? Anzi, ora vi faccio rispondere alla segretaria, raga! Ma non mi risponde, ma... Ma chi ho messo in cinta? Chiamami! Ora vi faccio rispondere alla segretaria! Ma quella di Genova non è manca a mano, ma non era in cinta! Vuole fare cose sue, però non... Quella di Genova! Raga, vuoi scogli altarini! Questa vuole fare il test DNA, gli ho scritto, mi hai combinato un casino! Io ho combinato un casino! Raga, ma qual è quella di Genova che ha detto che c'era le cose sue? Ma con chi è andato? Ma io, boss, ho combinato un casino! Ma chi ho messo in cinta? No, Federica no! Ma una dipendente! Chi è la dipendente? Quella che lava i piatti! Ma non ci ho fatto niente! Oh, quella che lava i piatti! È un... È un ragazzo, quella che lava i piatti! Raga, è andato nel pallone adesso, sapete no? Sto al cell con il suo avvocato! Era una ragazza! Ti richiamo! Penso che era nel dipendente! Raga, non ho nessun figlio io! Io no! Gli ha mandato la foto di uno screen come per dire che... Mi ha mandato chi è! Vediamo, mi sbianca di nuovo! Oddio! Esce fuori il nome! Raga, l'ho sgamato! Oddio mio!